Alessio Lazzazzera, Torres è riduce da una vittoria convincente sul campo del Cassino, una prestazione che vi ha dato tanto morale oltre che i tre punti? Sì, siamo andati su un campo dove abbiamo trovato una giusta quadratura e compattezza non solamente in fase difensiva ma anche con l'aiuto di tutti gli attaccanti e centrocampisti. Penso che sia stata una vittoria importantissima perché è fatta fuori casa contro una squadra costruita per arrivare nelle parti alte della classifica e penso che questa vittoria ci possa dare grande morale per continuare questa serie di risultati utili. Prossimo impegno sul campo del Latina, un'altra formazione ostica? Sì, cercheremo sicuramente di continuare ancora con questa compattezza di squadra e cercare di portare via qualche altro punto da un campo molto difficile come quello di Latina. Anche perché poi dopo due trasferte consecutive si torna a casa e si vuole continuare? Sì, infatti dopo Latina abbiamo una partita in casa contro la Dispoli dove vorremmo tornare alla vittoria dopo la partita contro la Lupa Roma che è stata purtroppo una partita bugiarda e non ci ha regalato i tre punti che meritavamo sul campo. Grazie e a boccalo. Grazie.